Sono qui con Bruno Vanzan, conduttore di Cocktail House, autore del suo libro Tutti i miei cocktail. Io l'ho visto in azione e lo definisco un acrobata con le bottiglie in mano. Bruno, da dove nasce questa tua passione? Beh, la passione intanto, grazie per i complimenti, la passione nasce un po' da piccolino. A Galbori, quando avevo 17 anni, studiavano un'antica, però a me non piaceva, e quindi ho iniziato a lavorare al bar nella periferia di Roma. All'epoca vennero fuori i primi baristi un po' acrobatici, no? E io mi sono immedesimato in loro e da grande ho perseguito una strada e un percorso, che poi ho mostrato comunque ad oggi essere un ragazzo abbastanza fortunato. Questa è la tua attività nella vita? Ma sì, fondamentalmente ne svolgo diverse, oltre ad essere, diciamo, in prima persona, no? Quindi lo showman, come tanti mi conoscono, e poi l'artefice, no? Della selezione, come citato, Cocktail House su Sky, tutti i miei conti di autore del libro. Io svolgo anche un'attività da proprietario, sono proprietario della mia azienda, che comunque svolge servizi di Cocktail Card, che è in consulenza a livello mondiale, quindi viaggio sempre tutto l'anno. Un'ultima domanda, quanto vale la formazione e l'allenamento in questa tua attività? A 100%, senza proprio il minimo dubbio. Ti spiego, anche un momento molto carino, io quando ho iniziato a fare il mio primo corso, immagino che ero uno di quelli meno portati di Langasse, e quindi se uno mi ha portato un po' al meglio a questo livello, io ce la posso aprire tutti. Grazie e in bocca al lupo per Tutor Futuro, grazie. Grazie a voi.